vi parla daniele molto dal pizzo della redazione del bo live siamo qui con federico fubini che noto giornalista inviato editorialista firma economica del corriere della sera che questa mattina ha parlato alle matricole di economia e gli ha detto che studiare conviene può spiegarlo brevemente anche noi perché conviene ma i dati lo dicono chiaramente i laureati tendono a guadagnare più di coloro che non sono laureati in tutti i paesi anche in italia tendono a essere disoccupati di meno dunque da questo punto di vista è evidente che studiare conviene però ci sono dei motivi che vanno molto al di là delle pure statistiche generali è impensabile studiare secondo me non è tanto accumulazione di conoscenze ma accumulazione di desiderio desiderio di nuove conoscenze di innovazione di approfondimento dunque di una capacità di rimettersi in gioco con la propria testa con la propria capacità di assorbire informazione conoscenza durante tutta la vita è più facile farlo se uno inizia presto e dedica gli anni della giovinezza gli anni in cui il nostro cervello alla fine più permeabile più elastico più flessibile più vitale impara questo lavoro di imparare a conoscere dunque non è solo la conoscenza che si incontra in quel momento sono le porte che permette di aprire anche in seguito certo una cosa di cui magari torneremo ecco intanto però quindi si studia per ragioni pratiche ma anche per ragioni personali ecco dal punto di crescita umana dal punto di vista pratico però tanti segnali sembrano andare quasi nella direzione opposta qua parliamo anche del suo ultimo libro che è la maestra il camorrista la camorrista e la camorrista pardon e sottotitolo è perché in italia resti quello che nasci e come mai questa situazione come si concilia con l'importanza invece di formarsi e studiare ma guarda io sono partito da alcune grandezze un po statistiche una di queste è che l'italia questa incredibile ricchezza privata tutta concentrata nelle famiglie direi più molto più nelle famiglie che nelle imprese questo naturalmente contrasta con il debito pubblico è un po come se gli italiani avessero avuto questa preferenza collettiva di accumulare tutte tutti gli attivi che si generavano nella vita economica nel nucleo familiare dove lo potessero controllare meglio tralasciando un po di finanziare i beni comuni o beni comuni particolari come le imprese o beni comuni generale come come lo stato e questa è una particolarità la seconda particolarità è che effettivamente siamo un paese demograficamente impoverito stiamo invecchiando perderemo quasi sei milioni di persone in età attiva nella prossima generazione nei prossimi 22 anni dunque l'italia perché oggi ha 39 milioni di persone in età attiva dunque tra i 15 e i 64 anni ne avrà solo 33 nel 2040 il 2040 non è così lontano come sembra appunto 22 anni fa è distante come il 1996 sempre che non sarà fatta nel frattempo la famosa quota 100 per le pensioni in quel caso ci saranno ancora meno persone inattive da subito forse bisogna vedere poi come la faranno questa quota 100 quante persone veramente vorranno se ci saranno delle penalizzazioni perché se uno certo può ritirarsi prima però perde qualche soldo o un po più di qualche soldo magari non tantissime persone aderiranno a questa quota 100 dunque vediamo e e l'altro aspetto che mi ha molto colpito è che gli italiani tendono a affrontare gli studi universitari laurearsi molto meno dei nostri pari europei non solo in generale abbiamo un tasso di laureati che è fra i più bassi ma colpisce molto che anche fra i più giovani cioè quelli tra i 25 e 34 anni la prima generazione che dovrebbe essersi laureata il tasso di laureati mi pare sia intorno al 26 per cento che è il livello più basso nell'unione europea con la romania dunque sono queste domande cioè come mai un paese così ricco di cultura così ricco di imprenditorialità come il nostro ha presenta queste apparenti contraddizioni il viaggio più che lavorare sulle statistiche un viaggio nelle scuole d'italia dove ci sono i giovani italiani dunque i bambini ragazzi gli adolescenti con i quali ho fatto dei test dei questionari ma soprattutto dei test per capire cosa hanno in testa come vedono la loro mobilità sociale perché poi alla fine questi dati di cui ho parlato hanno un grande ombrello sono le classiche caratteristiche di un paese con poca mobilità sociale devo dire il veneto meno che qualunque altro regione italiana è una regione con molta mobilità sociale dove facile incontrare persone che hanno avuto dei percorsi di carriere che vengono da origini molto umili non è così in italia in genere dove questo problema della percezione di non avere opportunità quando si nasce in famiglie un po al di fuori appunto delle opportunità dell'istruzione delle reti sociali del profili professionali quello pesa molto crea credo molta sfiducia anche se lei parla scrive di che quando si perde nella fiducia nella mobilità sociale si inizia a vivere la vita in società come un gioco a somma zero mi ha colpito questa espressione vuole spiegarla uno può pensare alla crescita economica come la prima fila di un teatro se si cresce magari un anno nella prima fila ci sono 12 posti se c'è crescita l'anno dopo ce ne sono 13 l'anno dopo ancora 14 dunque quando uno arriva e si siede in prima fila al tredicesimo posto al tredicesimo posto chiaramente avrà lavorato duro per meritarselo poter comprare quel biglietto e gli altri lo accoglieranno magari facendogli complimenti o considerandolo con una certa stima e considerazione però proviamo a pensare che non ci sia crescita economica o che ci sia decrescita i posti nel teatro sono 12 l'anno dopo sono sempre 12 l'anno dopo sono sempre 12 oppure se c'è decrescita l'anno dopo sono 11 e poi 10 questo cambia completamente il la percezione del successo e della crescita economica individuale perché perché se uno arriva e si siede e c'erano solo 11 posti intanto deve far fuori quello che sta seduto lì non si sta creando altro spazio è quello che sta seduto lì percepisce quanto lui abbia il controllo di una risorsa scarsa che sono le posizioni di privilegio e dunque cercherà di fare di tutto per controllarla per se stesso e poi quando lui si deve alzare andare via per chi vuole lui dunque magari membri della sua famiglia o persone che sono che gli sono vicine in altro modo magari non sono i migliori in altri termini conquistare una posizione di privilegio quando non c'è crescita c'è decrescita è un po un morso tua vita mea no devi un centimetro di spazio che conquisti e un centimetro di spazio che toglie a qualcun altro e questo naturalmente avvelena la convivenza fra le persone mentre perché non c'è spazio perché non si crea spazio per la realizzazione di più persone dunque la meritocrazia ne risente la fiducia fra le persone ne risente questo è un po il nostro problema direi come italiani oggi certo ma lei dice se non sbaglio a certo punto dice che non non è un destino ineluttabile che queste diseguaglianze possono in qualche modo in qualche misura e nella misura in cui sono ingiuste anche essere contrastate con una efficace azione da parte dello stato scuola università ma io penso che intanto il contrasto deve partire da tutti noi individualmente no è molto facile dire lo stato dovrebbe fare x e lo stato dovrebbe fare y quando noi stessi per il motivo delle sedi del teatro siamo i primi che guardano con sospetto uno che si siede in prima fila istintivamente pensiamo che la meritocrazia non c'entri mai niente e che le persone che stanno in una posizione di privilegio in fondo abbiano fatto qualcosa che non capiamo veramente e di cui non ci fidiamo veramente dunque c'è un atteggiamento che a volte è giustificato però dunque però parte da noi parte da noi a livello individuale certo alla fine del libro ho tutta una serie di indicazioni di cose che secondo me si possono fare alcune costano di più alcune non costano tanto per cercare di raddrizzare un po alcuni di questi problemi sicuramente una delle cose credo di dimostrarlo in maniera molto chiara in alcuni dei test che faccio fra bambini di ceti sociali diversi delle scuole materne dunque bambini quattro anni cinque anni a seconda della famiglia di origine del quartiere in cui crescono hanno dei livelli cognitivi capacità di fidarsi degli altri capacità di esercitare l'autodisciplina completamente diversi dunque i ritardi si sono già creati a quest'età il che vuol dire che evidentemente il sistema scolastico dovrebbe fare un investimento importante per i bambini sui bambini soprattutto nelle aree di emergenza sociale che ci sono in italia per tirarli su subito fin dall'asilo lei scrive sì anche prima anche anche prima è un investimento che rende è un investimento che dico io rende più di un bond e faccio riferimento alla vecchia abitudine italiana di comprare questi btp che rendevano molto i titoli di stato che rendevano molto probabilmente ci sono dei modi più intelligenti di preparare il futuro che non finanziare il debito pubblico o che non generare nuovo debito pubblico ringraziamo federico fubini ricordiamo il suo libro la maestra è la camorrista e vi salutiamo dalla redazione del volaio buon pomeriggio